Ciao a tutti ragazzi qui il vostro Archei Parla e chi l'avrebbe mai detto? Altri leak per quanto riguarda zombie, qualcosina che probabilmente vedremo in season 1, ma anche altre cose che al momento hanno trovato dentro il codice del gioco che come sempre è molto molto vago. Alcune cose potrebbero tranquillamente arrivare o essere modificate, tagliate, cambiate e non potremo teoricamente mai vederle. Già anche per Cold War tante cose presente nel codice, alla fine comunque non sono mai arrivate nel gioco finale, quindi come al solito prendiamo tutte queste informazioni essendo leak e rumor con le pinze. Ringrazio un ticebo come al solito il buonissimo airbrand al mio Discord che mi spamma informazioni continuamente, alcune anche un pochino più nascoste. Molto spesso adesso tantissimi leaker o altri che hanno diverse informazioni dagli sviluppatori, non li pubblicano più sui social, dove il rischio di copyright comunque essere visti da tanta gente è davvero alto, ma piuttosto su gruppi un pochino più privati, ad esempio i gruppi Discord, e purtroppo sono veramente in pochissimi gruppi, quindi difficilmente vedrei queste informazioni, mentre la parte ufficiale che vediamo dopo da Nanicos su Twitter c'è comunque davvero poco. Questa parte principale invece arriva da Margo Abbott, anche lui presente su Twitter, ma appunto queste informazioni che ha in parte rivelato sono dal suo Discord, orari come al solito improponibili, gli americani ci fregano un pochino con queste cose. In ogni caso questi sono i contenuti che dovrebbero arrivare per Vanguard Zombie tra la season 1 o anche in seguito trovati nel codice del gioco. Tra le modalità in arrivo vediamo Cranked che sarebbe frenesia già visto più e più volte su Cold War, e ci sta che possa tornare e forse su The Run Fang sarebbe fantastico, perché almeno per i primi round andiamo leggermente più in fretta, all'inizio è molto molto lento, soltanto più avanti per un attimo di velocità. In seguito la parte più importante di cui sicuramente volevo parlare, Griff Dolore. Non è il nome ufficiale dice Margo, ma più o meno quello che stiamo pensando, ergo Dolore di Black Ops 2. Anche su Cold War in parte se ne era parlato, non mi ricordo se è soltanto un rumor, o anche lì qualche leak del codice del gioco. Sarebbe finalmente caso di vedere il ritorno di questa modalità, perché abbiamo visto che con altre cose alternative come frenesia o tanti eventi di Natale, come adesso vedremo, o anche quello di Halloween, si possono fare veramente tante cose. Qualcosa come Dolore secondo me dovrebbe essere praticamente lo standard per tutti quanti gli zombie, della parte competitiva ce n'è sempre bisogno. Continueremo dopo con altre informazioni, però appunto Jingle Hells, come già visto l'anno scorso per Cold War, non è il nome ufficiale ancora una volta, ma è quello a cui stiamo pensando, qui nella versione probabilmente un reskin, cappellini di Natale, magari un babbo Natale zombie sarebbe fantastico, per gli Sturmkrieger, e tutti questi piccoli cambiamenti come un evento per la parte natalizia. In seguito invece Gang Game, gioco delle armi, che mi ricordo che ha spopolato tantissimi anni fa sulle custom, specialmente su World at War, ma anche su Black Ops 3, vedere una versione ufficiale sarebbe veramente fantastico, e sarebbe finalmente ora. In tanti anni 3 ha soltanto sfruttato alcune di queste modalità, tante altre cose che hanno fatto appunto modder o simili su PC, se arrivassero come versione ufficiale sarebbe il top, e molta gente come al solito ne sarebbe contenta. Per quanto riguarda i due obiettivi in arrivo, ho già fatto un video a parte a riguardo che vi lascio in descrizione, dovrebbero essere Assalto e Domination, quindi speriamo che arrivino il prima possibile, ci bisogna di contenuti anche soltanto numerici, per quanto riguarda The Run Fang. In arrivo anche dei power up aggiuntivi, uno che è un perk drop, come per dire su Epidemia che uccidiamo il boss come evento, e ci drop appunto un'abilità casuale. Qua non saprei benissimo come potrebbe funzionare, perché ci sono i tier, quindi non saprei se appunto il perk casuale è un perk che ancora non hai, o aumenta casualmente di un livello uno dei perk che possiedi. C'è poi M-Mod Drop, che potrebbe essere tagliato ed è molto probabile, non ci sono più le mod munizioni come su Cold War, nel Pack-a-Punch, ma sono dei patti, per cui dropparli ci potrebbe stare che ti droppa dei patti casuali, ma piuttosto aggiornerei molto di più quello che è il sistema di patti principale, aggiungendone altri, aggiungendo altre funzioni, o modi per spendere più cuori e rampi o alti. Parte aggiuntiva, Wonder Weapon, probabilmente durante la stagione 1. Abbiamo già visto dalle informazioni ufficiali che sembra che all'inizio e durante la season 1 ci sia il grosso, tra cui altri contenuti per The Run Fang, la main quest, e si sperano a Wonder Weapon, ovviamente che sia fatta bene, sia figa, probabilmente completamente nuova. Continuando con le informazioni per dolore da Nanico su Twitter, ci sono diverse stringhe di coach decriptate da Alaix, praticamente il trio classico per tutti questi leak e rumor, in cui appunto ci sono alcune frasi che vanno a ricollegarsi a questa modalità e sono alquanto interessanti. Vediamo quindi playlist CP, PvP, PvE, perché appunto come al solito dolore è una modalità PvP, perché ci sono sia gli altri giocatori, sia anche gli zombie a cui stare attenti. In ogni caso una di queste stringhe dice Team Stay Alive, quindi squadra, rimanete in vita, magari con un messaggio principale a inizio della partita. L'altro messaggio aggiuntivo sempre è playlist CP, PvP, PvZ, quindi su zombie, description, uccidi tutto il team avversario, trovi equipaggiamento nel mondo, uccidi il boss per avere la Wonder Weapon. Gunfire, quindi sparare, potrebbe allertare gli infetti e gli altri giocatori. Questa potrebbe essere una meccanica molto interessante, perché magari per com'è su Epidemia, finché alcuni gruppi di zombie non ti avvicini, comunque non ti stanno colpendo, o comunque non ti vanno addosso. La cosa già di base c'è su The Run Fang, anche in questo caso servirebbe una zona leggermente più grande, e non saprei come potrebbero incastrarlo per 4 contro 4 player, quindi 8 giocatori, perché anche The Run Fang, la zona iniziale lab di Red Star, alla fine non è che sia così grande, specialmente per un numero così elevato di giocatori. Aggiunge comunque Nanikos in un tweet successivo che questa sarebbe una modalità tagliata da Modern Warfare 2019, per cui potrebbe essere qualcosa di completamente diverso e magari riproposto su zombie. Dopotutto Vanguard è in parte un reschietto di Modern Warfare per Engine o altre cose, per cui magari tante cose tagliate da Modern Warfare possono quindi essere riutilizzate su Vanguard, e si spera ovviamente come contenuti per zombie. Quindi ragazzi, queste sono le informazioni che per adesso abbiamo, essendo come al solito dei leak e dei rumor, quindi non prendetele come informazioni ufficiali, ma come al solito aspettiamo un pochino di tempo per vedere se vengono o riconfermate, perché se un leak come al solito si ripropone più e più volte potrebbe teoricamente essere veritiero. E ovviamente tutte le news ufficiali che arriveranno con la stagione 1, che comunque pian piano si avvicina. Il 2 di dicembre è ancora un pochino distante, però magari lì avremo anche altre informazioni, si spera il prima possibile. Voglio quindi sapere tutte quante le vostre opinioni, per ritorno di alcune modalità come frenesia, che comunque era carina, qualcosa come dolore, penso che tutti sarebbero d'accordo, e probabilmente appunto questo evento Jingle Hells, come è stato fatto su Cold War. In seguito gioco delle armi, e tante altre modalità per dire a squadre o di divertimento, su zombie funzionerebbero benissimo. Inoltre tutto il resto che abbiamo in parte già visto, tra cui Assault e Domination, ma anche questo perk drop, una Wonder Weapon, e queste stringhe di codice sempre per dolore. Il video quindi si conclude qui, spero come sempre che vi sia stato utile, tutte quante le informazioni il più possibile lo trovate qui sotto in descrizione, trovate anche tutti quanti i link dei miei social, tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Un abbraccio. Ava.